È iniziato oggi pomeriggio con un sopralluogo alla Marlane di Praia Mare il lavoro del pool di esperti incaricati dal Tribunale di Paola dello svolgimento di una nuova perizia ambientale nell'ex fabbrica tessile e nei terreni circostanti. La nuova indagine dovrà dire se esiste un nesso provato scientificamente tra i decessi degli operai per patologie tumorali e le sostanze chimiche utilizzate nella produzione, oltre a stabilire il livello di inquinamento dell'ex area industriale. Questa mattina nel corso di una seduta straordinaria presso il Tribunale di Paola i quattro esperti Giuseppe Paludi, Pietro Comba, Maria Triassi e Pier Giacomo Betta hanno prestato giuramento e ottenuto l'incarico. Contestualmente accuse e difesa hanno nominato i loro periti di parte. Il collegio di tecnici ha ricevuto un termine di 60 giorni per la consegna della nuova perizia. Dunque il risponso è atteso per il prossimo 20 dicembre salvo richieste di proroghe facilmente ipotizzabili data la corposità dei quesiti posti e della documentazione agli atti. Diversamente da quanto annunciato nella seduta precedente non è stato ascoltato l'ultimo test di parte civile né stilato il calendario delle prossime sedute. Di certo una nuova udienza è prevista per venerdì 25 ottobre a cui seguirà una pausa per la festa di ogni santi venerdì 1 novembre. Il processo Marlana intanto proseguirà anche se gli ultimi risvolti pongono più di un quesito. C'è da chiedersi infatti che sorte spetta alle deposizioni già rese e a quelle che seguiranno nelle prossime sedute in attesa di conoscere i risultati della nuova indagine. Un particolare che vale soprattutto per le numerose testimonianze fornite dai periti tecnici che si sono alternati finora al banco dei testi.